Ciao amici di MyFastBook, bentrovati! Oggi 10 settembre 2015 è uscito il libro di Andrea Maggi, Il sigillo di Polidoro. Morte all'acropoli è stato il primo volume delle indagini di Apollofane che ora continuano con il sigillo di Polidoro tra suspense, tensione e intrigo sullo sfondo dell'antica Grecia. La luce tramonta sui boschi alle porte di Sparta. Un urlo rompe il silenzio, è la voce di una ragazza che implora aiuto da un piccolo tempio nascosto tra le fronde. I primi a soccorrerla sono Apollofane e Filossena. Il giovane mercante e l'affascinante filosofa sono in viaggio da giorni dalla lontana Atene. Quando lo sguardo di Filossena incrocia lo sguardo di Agesistrata, riconosce sua nipote e figlia di suo fratello Tisameno, che non vede da anni. Sono giorni che l'uomo riceve minacce alla sua famiglia e sospetta che il movente sia politico. Un anello con il sigillo di Polidoro sarà il loro lasciafassare per cercare gli indizi nei luoghi più oscuri e segreti della città. Ma trovare chi ha sequestrato Agesistrata si rivela un'impresa ardua e pericolosa. Direttamente dal sito Garzanti, il coraggio di una città, l'intuito di un uomo il colore della vendetta. Dice di lui Valerio Massimo Manfredi una scrittura intensa e affascinante, sicuramente una garanzia di buona lettura. Ciao, a presto!